Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti nella seconda video lezione dedicata al calcolo della derivata di una funzione. In questa video lezione impareremo appunto a fare la derivata del prodotto di funzioni. In particolare, impareremo a derivare il prodotto di due funzioni e il prodotto di tre funzioni. Procediamo facendo alcuni esercizi. Allora, inizialmente diciamo che derivata di f per g è uguale a f' cioè la derivata della prima funzione per g per la seconda non derivata più la prima funzione non derivata per la derivata della seconda, quindi g'. Quindi prendiamo la funzione y uguale a 5 per x3 per elevato a x e deriviamola applicando la regola. Allora, individuiamo innanzitutto chi è f, quindi in questo caso per la semplicità x3, e chi è g, quindi elevato a x. Allora, procediamo con la derivata prima. Quindi scriveremo che y' è uguale. Allora, il costante 5 moltiplica il prodotto delle funzioni, quindi scriveremo 5 che moltiplica, apriamo una tonda e deriviamo il prodotto. Quindi f' cioè devo derivare x3, 3x2, per la seconda non derivata, per elevato a x, più la prima non derivata, x3, per la derivata della seconda, la derivata di elevato a x e elevato a x. E possiamo lasciarla tranquillamente così. Ok, passiamo al secondo esercizio, anche qua individuiamo f, in questo caso f è seno di x, e g è coseno di x. Allora, quindi, calcoliamo y' la derivata prima. y' è uguale a 2, costante moltiplicativa, per aperta tonda, perché 2 moltiplica, ripeto, il prodotto delle funzioni, quindi, diciamo, va fuori la segnale di derivata, e quindi dobbiamo scrivere 2 per aperta tonda e deriviamo il prodotto. derivata di f, quindi f' è primo, derivata del seno è coseno, quindi coseno di x, per coseno di x, per coseno di x, più la prima non derivata, quindi seno di x, per la derivata della seconda, per meno seno di x, perché la derivata del coseno è meno seno di x. Ok, e possiamo lasciarla anche così in questo momento. Andiamo a vedere il terzo esercizio, y uguale a 3 che moltiplica x che moltiplica logaritmo naturale di x, quindi anche qua individuiamo come f la funzione x e come g la funzione logaritmo naturale di x. Quindi, scriviamo, quindi, che la derivata prima è uguale, derivata prima è uguale a 3 che moltiplica per la tonda, la derivata di x, cioè f' è primo, quindi 1 per la seconda non derivata, ln di x, più la prima non derivata, x, per la derivata della seconda, 1 fratto x. Quindi qua possiamo semplificare le x, in questo modo, 1 e 1, e quindi il risultato è 3 che moltiplica logaritmo naturale di x più 1. Ok, risolviamo il terzo esercizio, cioè facciamo il quarto esercizio, scusate, e quindi individuiamo le funzioni. Questa volta la f sarà il contenuto della parentistonda, quindi elevato x più 3, e la g sarà logaritmo naturale di x. Applichiamo sempre la regola e otteniamo, quindi, y' uguale, derivata di elevato x più 3, quindi f' è primo, elevato x, vediamo la derivata di elevato x, la derivata di 3, scommi la costante, appunto, che stiamo sommando, da 0, quindi elevato x è la derivata di f, e quindi f' è primo, per g, per logaritmo naturale di x, quindi più la f non derivata, quindi elevato x più 3, per la derivata di g, quindi la derivata di logaritmo naturale di x è 1 fratto x, e ci fermiamo qui. Allora, deriviamo ancora queste tre funzioni, individuiamo sempre f e g, quindi in questo caso f è il contenuto della parentistonda, quindi x più 2 è l'oritmo naturale di x, e g invece sarà coseno di x. Quindi, scriviamo, y' uguale, derivata di f, quindi f' è primo, in questo caso sarà 1 derivata di x più 2 per derivata di logaritmo naturale di x, quindi 1 fratto x, quindi per g non derivato per coseno di x più la prima non derivata, quindi f, cioè x, più 2 logaritmo naturale di x per la derivata di coseno, che è da meno seno di x, quindi per g, primo. Ok, anche qua nel numero 6 individuiamo f e g, quindi f sarà coseno di x meno seno di x, e g sarà meno seno di x meno coseno di x. Applichiamo la formula e la derivata prima sarà data da, quindi y' uguale derivata di f, quindi derivata di coseno è meno seno, quindi meno seno di x, la derivata del seno è coseno, quindi meno coseno di x, per g non derivato, quindi meno seno di x meno coseno di x, più la prima non derivata, quindi f, coseno di x, per la derivata della seconda, quindi meno derivata del seno è coseno di x, poi abbiamo meno la derivata del coseno, che è meno seno di x. Ok, e lo lasciamo in questa maniera qua. Quindi facciamo l'ultimo esercizio, e anche qua individuiamo f e g, questa volta abbiamo, vedete, la somma di due prodotti, quindi avremo una f che è x4, una f che sarà x2 meno 1, e poi come g individuiamo le funzioni per cui vengono moltiplicate le f, quindi in questo caso la prima g è seno di x e la seconda è coseno di x. Quindi devo praticamente applicare la stessa formula due volte. Vediamo un pochino e scriviamo y' uguale derivata di f, 4x3, per, appunto, g, quindi la seconda non derivata, seno di x, più la prima, x4, per la derivata della seconda, quindi coseno di x, perché la derivata del seno è coseno. Andiamo avanti, più la derivata della prima, 2x, perché sarebbe 2x più 0, per la seconda non derivata, quindi per coseno di x, più la prima non derivata, quindi x2 meno 1, per la derivata della seconda, quindi meno seno di x, meno seno di x, in questo modo. Ok, quindi seno di x, perfetto. Bene, andiamo avanti e affrontiamo la derivata del prodotto di tre funzioni. La derivata di f per g per h è uguale a f' per g per h, più f per g per h, più f per g per h'. Vedete, abbiamo il prodotto delle tre funzioni, f, g, h, ripetuto tre volte. Nel primo prodotto solo la prima è derivata, quindi f' nel secondo solo g è derivata, quindi c' nel terzo solo h è derivata, quindi h'. Quindi anche in questo caso identifichiamo f, in questo caso con la x, g elevato a x, e poi h è la funzione del logaritmo naturale di x. Applichiamo la formula e scriviamo y' uguale. Allora, nel primo termine è solo la f' è derivata, quindi 1 e il resto lo copiamo, per l'elevato a x per logaritmo naturale di x, più. Nel secondo prodotto è la g che è derivata, quindi scriveremo x, la derivata di g che è elevato a x rimane elevato a x, per logaritmo naturale di x, lo copiamo, identico, più. Nel terzo prodotto è derivata la h, quindi scriveremo x per elevato a x, quindi f e g non derivate, per la derivata di logaritmo naturale di x, per 1 fratto x. E l'esercizio è completato. Di nuovo, facciamo il secondo, y è uguale a x per seno di x per 3x più 2, quindi individuiamo sempre, appunto, f, in questo caso x, poi g è seno di x, e h è la funzione 3x più 2. Riapplichiamo la regola e otteniamo y' uguale. Allora, nel primo prodotto deriviamo solo la prima, quindi f'1, quindi 1 per, e il resto lo copiamo, sen x per 3x più 2. Poi, più, nella seconda, nel secondo prodotto deriviamo solo la g, quindi scriveremo x, quindi derivata di seno di x e coseno di x, eccola qua la g'', e l'h la copiamo, quindi 3x più 2. Più il terzo prodotto, devo derivare l'h, quindi ricopiamo x per il seno di x, che sarebbe f per g. Ora, la derivata di h è 3, perché sarebbe, appunto, 3 più 0, perché la derivata di più 2 è 0. Quindi, per 3, eccola qui. Quindi x per seno di x per 3. Va bene. Allora, andiamo ancora avanti, e di nuovo, questa volta c'è una difficoltà, potrebbe essere una difficoltà aggiunta, ma no. No, noi, questa volta, possiamo fare così. Possiamo, praticamente, identificare la f, appunto, con x, la g con logaritmo naturale di x, scusate, mettiamo sempre l'azzurro, per la g, e la h sarà seno di x. Procediamo. y' è un primo uguale. Allora, 2 è una questione moltiplicativa. Apriamo una bella parentesi. Nel primo prodotto, dobbiamo derivare la prima, quindi 1, e il resto lo copiamo uguale, ln di x, g, e h seno di x. Più. Nel secondo prodotto, deriviamo la g, quindi x rimane uguale, la derivata di g, che è il logaritmo naturale di x, è 1 su x. Per seno di x rimane, h rimane identica, seno di x. Più. Nel terzo prodotto avremo la prima non derivata, quindi x, la seconda non derivata, l'oletmo naturale di x, e la terza invece viene derivata, quindi la derivata di seno di x è coseno di x. Anche questo esercizio è concluso. Identicamente facciamo l'ultimo, quindi abbiamo che la f, in questo caso x2, la g sarà x meno 1, e la h sarà x3 più 2 x2. Ok, procediamo. y' uguale. Allora, nel primo prodotto deriviamo la f, quindi 2x, e il resto lo copiamo, x meno 1 per x3 più 2 x2, più, nel secondo prodotto deriviamo la g, quindi x2 per derivata di x meno 1 è 1, e il resto lo copiamo, x3 più 2 x2, più, nel terzo prodotto deriviamo la h, x2 per x meno 1, per la derivata di x3, e quindi diventa 3x2, più 4x. La derivata è terminata. La lezione è conclusa, vi ringrazio per l'attenzione, e vi rimando alla terza video-lezione in cui parleremo della derivata di un quoziente di due funzioni. Arrivederci.